Buona serata, nuovo aggiornamento con Moversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. Un veicolo segnalato in avaria in A12, la Genova-Rosignano, tra colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Code consueti allo svincolo di lastra signa sulla Firenze-Pisa-Livorno in uscita provenendo da Firenze. C'è un controllo di velocità segnalato in A1 tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud in direzione di Firenze. Passiamo alla 11, la Firenze-Pisa, un veicolo in avaria tra Montecatini e Chiesina-Ozanese in direzione di Pisa. Ancora traffico intenso su Viale a Firenze, Via Vido Monaco, Viale Eredi, Belfiore, Milton Strozzi e Rosselli. Bene, ci fermiamo qui, Moversi in Toscana è realizzato con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A più tardi. Grazie a tutti.